Vediamo adesso i difetti dell'occhio e come possono essere corretti attraverso le lenti. Questo è un occhio mio per un occhio troppo lungo, per cui i raggi che arrivano per esempio dall'infinito, con il cristallino rilassato, vanno a focalizzarsi prima della fine dell'occhio, quindi prima della retina. Perciò sulla retina arriva un'immagine sfocata. Questo difetto si corregge mettendo una lente divergente davanti all'occhio, che allarga un po' i raggi luminosi che arrivano al cristallino. Quindi i raggi al cristallino non arrivano più paralleli, ma arrivano leggermente divergenti. In questo modo il cristallino, anziché focalizzarli prima della retina, li focalizzerà esattamente sulla retina.